Il destino del Teramo in queste ultime tre sfide perché siamo convinti che possano bastare. Questo è il messaggio che la squadra ha espresso nelle varie interviste che ho visto durante la settimana, ma questo era logico. È normale che abbiamo dovuto metabolizzare un pochettino di delusione, perché penso che un pochettino, non dico che c'eravamo illusi, però quattro partite e dieci punti, due partite in casa, però la realtà è questa. Probabilmente questo è un anno che dobbiamo soffrire fino alla fine, però siamo pronti a soffrire. Ci siamo perché le partite cominciano a finire, di conseguenza ci sono tanti scontri diretti e ci siamo messi in una situazione che dobbiamo pensare a noi stessi e fare una buona partita prima di tutto, perché comunque sia il destino di questa squadra nell'arco del campionato regolare, però ci potrebbero essere delle appendici. Noi dobbiamo prima di tutto guardare le prestazioni, guardare quello che stiamo proponendo, cercare di migliorare, dove abbiamo dei difetti, perché c'è ancora tempo, c'è sempre tempo per migliorare. No, non cambieremo niente. Abbiamo provato all'inizio della settimana, avevo intenzione di poter cambiare, però ormai questa squadra ha trovato determinati equilibri. Poi onestamente ho riguardato attentamente la partita che abbiamo giocato, anche l'ultima che abbiamo giocato con il Forlì, e devo essere sincero, sicuramente non siamo stati brillanti, però una squadra che in casa gioca contro una diretta concorrente, perché non è che dobbiamo vergognarci a dire che abbiamo giocato contro una diretta concorrente, se quest'anno questo è il nostro destino. Abbiamo avuto 12 calci d'angolo a favore, abbiamo avuto, mi sembra, su 90 minuti, abbiamo avuto quasi 70 minuti il possesso palla. Io penso che quello è un punto di partenza, contro una squadra onestamente che è venuta, e lo sapevamo, che quando noi troviamo squadre che vengono e si chiudono possiamo trovare difficoltà, però nonostante tutto io mi sono arrabbiato, non arrabbiato, ho solo rimproverato un pochettino ai ragazzi il discorso di 12 calci d'angolo, perché una squadra che riesce a prendere 12 calci d'angolo deve, con le qualità che abbiamo, riuscire a essere più pericolosa. Ma guarda, io l'ho vissuta queste situazioni che stanno vivendo la maceratese, perché dopo 15 anni, anzi 17 anni, 18 anni di Lega Pro ne ho visti di tutti i colori, ho visto cambi di presidenza, ho visto pagamenti non avvenuti, però poi ho visto sempre la mia squadra che entrava in campo e che mordeva le caviglie agli avversari. Perché? Perché poi c'è la dignità, c'è una televisione, c'è i media, c'è tutto, e di conseguenza i problemi li lasci fuori dal campo. Durante la settimana diventa difficile la gestione, perché quando arrivi il martedì al campo non parli di tattica, ma parli di avrò i soldi per pagare lo stipendio, avrò i soldi per pagarmi l'affitto, avrò i soldi per comprare, non so, i ragazzi al giorno d'oggi hanno la macchina, hanno quello, perciò quelli sono i problemi settimanali. Poi quando entri in campo la domenica ti discordi. Però torna a ripetere, loro hanno i loro problemi, noi abbiamo i nostri problemi, nel senso che noi dobbiamo salvare questa categoria, che è la causa più importante.